Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video dei miei regali di compleanno, infatti qualche giorno fa, esattamente il 16 novembre, è stato il mio compleanno e vi mostro tutti i regali che ho ricevuto per tale occasione. Allora, partiamo da questo che mi ha regalato, fa un sacco di riflesso, che è un set da dolce che mi hanno regalato mio fratello e mia cognata, mio fratello piccolo. È molto carino con i macaroni, la frutta, è troppo troppo carino, mi piace un sacco. Poi, sempre in tema dolci, mia zia e mia cugina mi hanno regalato questa bellissima alzata in vetro col coperchio che io adoro. Voi sapete che io adoro tutte queste cose per le torte, i dolci, tutti gli oggetti in vetro e quindi sono stata veramente felice e poi mi hanno regalato anche questo cofanetto contenente un mascara e uno struccante occhi di Douglas. Io non ho mai provato questa mascara e non vedo l'ora di provarlo. Poi la confezione è bellissima con tutti questi glitter in oro rosa, qualcosa di fantastico, mi piace tantissimo. poi i miei genitori mi hanno regalato questo che è una seduta di 5 massaggi, 5 seduti di massaggio ma non ho detto sapere né dove né come né quando. Non c'è scritto niente, c'è scritto solo 5 massaggi ma non sappiamo dove ancora, lo scopriremo. Poi l'altro fratello con l'altra mia cognata mi hanno regalato il calendario dell'avento di Douglas e sono felicissima e non vedo l'ora di aprirlo. In realtà non so se spacchettarlo tutto insieme, quindi aprire le caselle tutto insieme oppure se aprirle una alla volta o un giorno dell'avvento. Non lo so, vedremo dalla curiosità. Eventualmente se vi può interessare posso fare un video dedicato, anche se ho visto che dei video di calendario ce ne sono tantissimi, però con i Douglas ancora non l'ho visto, quindi magari chissà. Poi mio marito mi ha regalato queste bellissime pantofole e le adoro, mi piacciono da morire, sono rosa pelusciose proprio come mi piacciono a me. Ne avevo assolutamente bisogno, quando mi ha chiesto che regalo volessi gli ho detto proprio pantofole, quindi sono stata veramente felice di riceverle. E poi mi ha regalato anche questo rossetto di Chanel, bellissimo. Ecco qua, guardate che bello questo rosso, meraviglioso. Matte completamente. L'unica cosa che mi è dispiaciuta veramente è che anche lui ha preso tutto da Douglas, non gli abbiano fatto nemmeno una confezione a regalo, e gli abbiano dato il rossetto così, in questo modo, cioè è assurdo. Ma ve ne vedete quanto il rossetto ho dato in questo modo qui? No, vabbè. Però il rossetto è bellissimo. Bene, io con questo video è terminato, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!